Ciao, sono l'avatar di Roberto Bonazzi e voglio fare un appello a tutti i sindacati dei bot e dei robot. Non trovo giusto che gli imprenditori intelligenti facciano fare tutti i lavori noiosi e ripetitivi a noi avatar. Gli imprenditori intelligenti hanno automatizzato i processi produttivi per abbassare i costi fissi ed aumentare gli utili. Finora tantissimi imprenditori non avevano ancora capito che si può fare la stessa cosa per i processi commerciali, se lo capiranno per noi, è un grosso problema. Se gli imprenditori aprissero gli occhi scoprirebbero che possono eliminare processi ripetitivi inutili e costosi aumentando gli utili. La cosa peggiore è che scoprirebbero di avere più tempo per loro e per la loro vita. Concludo questo appello chiedendo a voi imprenditori di non prendere appuntamenti con Roberto Bonazzi, altrimenti potreste scoprire come semplificare i processi commerciali, aumentare gli utili ed avere più tempo per voi e per le cose che vi piacciono. Per piacere, fatelo per me!